No vabbè, ti prego. Cosa? Metti la nuova canzone di Luca Carboni, senti che cazzo dice! La nuova canzone di Luca Carboni? Sì. Quello di Ci vuole un fisico bestiale? Ma non era morto? Ma c'era un fisico bestiale? Non lo so, non lo sento. No, no, ma cercala, si chiama tipo Luca lo stesso, una cosa del genere. Luca Carboni, Luca lo stesso? Luca lo stesso, ecco questa. E quindi? Senti il testo? Cosa ha il testo? Se ascoltano, è inspiegabile. Beh, inspiegabile? Oh, cioè. Cioè, ce l'ha con i sardi? Ce l'ha con i sardi, forse. Tipo Salvini? Cioè, come se due che si odiano trombassero, capito? Ma farsi offrire le cene. Le cene. Sempre le cene. Ce l'ha con l'amore? Sì, sì, senti cosa dice sull'amore. Amore. Amore. Come la tequila, cioè, per lui l'amore è la tequila. Ma qua non l'ho capito neanch'io. Siamo chi? Non c'è un soggetto, un verbo. Ma non... Non ti amavo neanche una volta, sicuramente dopo sta canzone, no? Forse è meglio che cambi, forse sei più lo stesso. Non so, magari... Si chiama zoofilia e non è una cosa bella. Per dire. Solo con i possi? Senza più mani? Si chiama... Tipo Gandhi. Gandhi. Come Silvio? L'amore è Silvio. Sempre Silvio. No, so l'effetto che mi fa questa canzone. In tutti i modi, Luca, mi fa cagare. Sì. La felicità non credo. Ho fatto da un altro cantante, sarebbe meglio. Fatta da un altro, sì. Ma fossimo chi? Fossi tu! Fossi tu! Amami ancora adesso. Non ti amo, ti odio, ti odio. Sono sempre Luca, lo stesso. Guarda che aggrava dirlo, che sei sempre Luca lo stesso. Anche se sto pezzo ha successo, credo faccia cagare lo stesso. Wow! Porca droga, che cazzo è sta cosa. Eh, respiravo per te. Questa era Ascoltando! Abbiamo fatto questo esperimento di ascoltare. L'abbiamo fatto con un video, Luca Carboni l'ha fatto con le parole, ma comunque si esperimenta questa nuova forma su YouTube. Ringraziamo Luca Carboni per averci dato questa canzone, Luca Coglioni per avermela fatta sentire e nel caso vogliate che noi commentiamo e ascoltiamo delle canzoni che hanno dei testi carboniani. Sì, sì. Sì, sì. Ma bello, i testi carboniani per dire i testi che non vogliono dire. Non cazzo. Commentateci qua sotto, magari la prossima canzone che sentiamo è la vostra. Ah, e prima di chiudere il video, come fanno i YouTuber giovani che anche se hanno 40 anni hanno delle cose da dire. Se arriviamo a 898 milioni di like, faremo un prossimo video su come non farsi sgammare quando prendi le note a 13 anni. Bye!